Per me è una grande emozione a consegnare questo trofeo, anzi sono due le emozioni, una perché consegno un trofeo mio profondo a me, il secondo è perché lo consegno al figlio di un altro mio grande amico da l'infanzia che si chiamava Sergio Farris, padre di Sergio e questo è il mio prego di un luogo e vi ringrazio tutto qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Injected with a poison Injected with a poison